Buonasera e buona domenica. La redazione di GIA News vuole dedicare questa puntata di telegiornale al grande pilota italiano Marco Simoncelli che oggi è morto in un incidente di gara. Alla famiglia di Marco Simoncelli va tutto il nostro affetto. Ora amici passiamo a una notizia di spettacolo e per fare questo ci colleghiamo con il nostro inviato a Hollywood. Buonasera amici Saravusane che scoccia un saluto da parte mia da Hollywood. E' appena conclusa la notte degli Oscar con il trionfo del nuovo film di James Cameron. E' il film che sta commuovendo tutto il mondo, la storia d'amore che sta facendo piangere tutto il pianeta. E ora prego la regia di agevolare il filmato. E' il film che sta facendo piangere tutto il mondo, la storia d'amore che sta facendo piangere tutto il mondo, e' il film che sta facendo piangere tutto il mondo, la storia d'amore che sta facendo piangere tutto il mondo, e' il film che sta facendo piangere tutto il mondo, la storia d'amore che sta facendo piangere tutto il mondo, Amici saravusani, passiamo i saluti. E amici saravusani, vi salutiamo con affetto, passate una buona domenica sera. E speriamo che questo TGA News non ci ronan bacia a nudo. Arrivederci. Ah, speriamo. Comunque, fine delle trasmissioni. Grazie a tutti.